Perché amo le vere autorità? Perché le riconosco, so di non essere a loro altezza, io vibro alla loro frequenza. Aristotile è il campione di questo mondo, il campione della natura, al contrario del supernaturalismo di Platone. Negando il mondo delle forme di Platone, Aristotile dice che c'è solo una realtà. Il mondo dei particolari nel quale viviamo è la realtà, il mondo percepito dai sensi, e non c'è altro. La realtà non consiste in astrazioni platoniche, ma di concrete entità individuali, ognuna con la propria natura, ognuna obbedendo a leggi inerenti alla propria natura. Possiamo vedere queste leggi come la manifestazione esteriore di Dio. L'universo di Aristotele è l'universo della scienza. La scienza l'uomo pensa ci allontani da Dio, ma nel provare un ordine naturale, leggi inviolabili in natura, l'esistenza di Dio è confermata. Per Aristotile il mondo fisico non è una proiezione indistinta, controllata da dimensioni divine, ma un reame autonomo, naturale ed accessibile alla mente umana. In tale universo la conoscenza non può essere acquisita per via di rivelazioni speciali da altre dimensioni. Non c'è spazio per ineffabili intuizioni dall'aldilà, come quelle che troviamo nella loggia, con i vari profeti che seguite e che vi dicono che parlano con Dio. Ripudiando gli elementi mistici dell'epistemologia platonica, Aristotele è il padre della logica e campione della ragione, come unico mezzo per la conoscenza dell'uomo. Quando si lascia il reame della ragione, si entra nel mondo della religione e credenze, originate da fede, che non può essere provata, e lì nasce il contrasto fra gli uomini. Per Platone ritiene che la conoscenza si deve basare sull'esperienza sensoriale, si deve formulare in termini di concetti definiti oggettivamente e deve essere validato da un processo di logica. Per Platone una buona vita è una vita di rinunce, di altruismo. L'uomo deve rinunciare ai piaceri di questo mondo in nome di una fedeltà per una dimensione maggiore, proprio come deve negare la sua individualità nel nome dell'unione alla comunità. Per Aristotele invece l'uomo deve godersi i valori di questo mondo e usare la propria mente al meglio ogni uomo deve lavorare per raggiungere la propria felicità qui sulla terra e nel mentre deve essere cosciente del proprio valore. Orgoglio, scrive Aristotele, un orgoglio razionale in se stessi e carattere morale è, quando meritato, la corona delle virtù. Un uomo del genere non piace allo stato platonico. Durante il Rinascimento si riscopre Aristotele, si riscopre quindi la ragione che finalmente liberò l'uomo dai dogmi del Medioevo. Gli uomini erano liberi per la prima volta nella storia del mondo di dire quello che avevano in mente, scambiarsi idee. Alla fine del XVIII secolo però qualcuno riprende i principi di Platone e parliamo del famoso filosofo tedesco massone Immanuel Kant. Nell'enciclopedia massonica infatti si dice che è chiave per capire la massoneria il pensiero di Kant. L'obiettivo principale di Kant è di salvare la religione dalla scienza. Il suo attacco è contro la mente dell'uomo che secondo lui non può capire la realtà. In ogni processo cognitivo, secondo lui, che si tratti dei sensi o di pensiero astratto, la mente automaticamente altera e distorce la realtà che ci confronta. La mente filtra e struttura la realtà a causa di processi soggettivi innati e queste operazioni sono impossibili da evitare. E quindi il mondo che l'uomo percepisce, il mondo di entità spazio-temporali, è una creazione della sua coscienza. E quindi quello che percepiamo non è la realtà. E quindi per Kant, come per Platone, l'universo consiste in due dimensioni opposte. Da una parte la vera realtà e dall'altra parte un mondo di parvenze che non è reale. E cioè il mondo materiale che l'uomo percepisce con i sensi. Ed è qui che si comincia a mescolare le cose. È qui che il male diventa bene e il bene diventa male. La moralità sparisce. Kant buttò via la ragione. L'uomo non può capire il mondo perché la sua mente non è capace di capire la realtà. Secondo lui il mondo intorno a noi non è reale. Ma c'è un metodo non razionale per raggiungere la realtà, secondo Kant. E qui apriamo la porta alle credenze. In poche parole, fatta fuori la ragione, ci ritroviamo in un'orgia di fantasie mistiche. Il romanticismo. Insomma, siamo di nuovo al Medioevo. L'uomo è completamente confuso. È libero di credere quello che vuole, no? Ognuno pensa che, che ne so, la forma della Terra sia in una certa maniera. O il proprio Dio può essere fatto in un certo modo. E non siamo mai d'accordo su niente. Siamo divisi. Chi ha, diciamo, una credenza, che in questo caso la propria credenza è di farci fuori, e la può imporre, tu non puoi nemmeno dimostrargli che non ha ragione. E comprove, perché non vince la sua ragione. Se lui ti dice che noi ci trasmettiamo questi nemici invisibili, tu ci devi credere. E non c'è niente di grave ad avere un'opinione. Cioè, se tu ti vuoi immaginare il mondo e la realtà come vuoi tu, va benissimo, io non c'ho nessun problema. Però se me la devi imporre, come la stanno imponendo loro, tu non ti puoi rifiutare, secondo loro, perché stai ammazzando le persone. E questo mondo può sembrare scientifico e razionale, ma in realtà è tutto il contrario. Ma ritorniamo a sto malato di mente di Kant. L'essenza della virtù morale è l'altruismo. Obedienza eterna ai doveri, senza nessuna aspettativa di ricompensa, indipendentemente da quanto possa fare soffrire. E questa bella filosofia fu adottata poi dai nazisti, quelli di ieri e quelli di oggi. La torcia passa da un malato di mente, Kant, e viene presa da un altro malato di mente, Hegel. Dialettica di Hegel, no? Tesi, antitesi e sintesi, no? Che è la stessa tecnica che questi malati di mente usano per controllarci, no? Problem, reaction, solution, no? Cioè, creo io i due posti, i due problemi, per arrivare all'obiettivo che ho. Hegel lancia un attacco ai principi fondamentali della filosofia di Aristotele. Sui principi della logica aristotelica, che nemmeno Kant aveva usato a criticare. Secondo Hegel la realtà è intrinsecamente contraddittoria. È una progressione sistematica, collisione di contraddizioni, organizzata in triadi, triadi, di tesi, antitesi e sintesi. E l'uomo deve pensare in questo modo. Non devono più pensare alla consistenza statica. Non più quindi la visione di Aristotele che dice che ogni esistenza ha una specifica identità, che le cose sono quel che sono, che A è A e B è B. Al contrario, dice Hegel, tutti dipendiamo da un principio superiore. Il principio dell'identità degli opposti. As above, so below. La nuova religione dei tedeschi, dedizione ai doveri. And the folk. La vera realtà, secondo lui, è una dimensione non materiale. Oltre lo spazio e il tempo. E oltre la percezione umana. Ma se questo è vero, lui come ha fatto a scoprire tutto questo? Ovvio, se l'ha inventata, no? Come inventano i mostri di oggi? Secondo Hegel, questa entità superiore è in continua evoluzione. E in questo momento della sua fase evolutiva è composta da tanti individui che possono sembrare divisi uno dall'altro, ma non lo sono. Tutto è uno. Come dicono le filosofie orientali. Sei un ingranaggio nella macchina. Pegora, non pensare individualmente. E nella proiezione di questo ammalato di mente, il materializzarsi di questo assoluto è il Führer. È lo Stato. Der folk. La comunità. Di pecore. Senza un individualismo. Senza niente. Ma pensano solo la comunità. Ingranaggi nella macchina. Questo è il sogno del nuovo ordine mondiale. Questa mandria di pecore che in unisono, senza il cervello, lavorano lo stesso obiettivo. Workerbees. Come dei soldatini. Ein Reich. Ein Volk. Ein Führer. Questa è la base del comunismo. Comune. In comune. Un cervello. Un organismo. Che lavora. Senza cervello. Per un unico obiettivo. Per loro. Qui pochi in alto. Dice il malato di mente, Hegel. Che l'individuo deve subordinarsi alla comunità. Se lo Stato lo vuole sacrificare, lui deve accettare. E siccome siamo tutti uno, il gruppo ha supremazia sull'individuo. Se ciascun uomo impara a sopprimere la propria identità e si fonde con il gruppo, l'entità collettiva derivante, lo Stato, sarà un riflesso più vero della realtà. Una manifestazione superiore dell'assoluto. La creazione di questo mostro, lo Stato, rende l'individuo non esistente. Questo l'uomo l'ha fatto per ricevere in cambio tanti benefici e protezione. Lo Stato è una creazione di Dio, dice Hegel. E non richiede quindi solo obbedienza, ma venerazione. E ha diritti supremi nei confronti dell'individuo. Che dovere supremo è di essere un membro dello Stato. Il filosofo neoegheliano Giovanni Gentile influenzò anche Mussolini, che disse Il mondo visto tramite il fascismo non è questo mondo materiale che appare in superficie, in cui l'uomo è un individuo separato che se ne sta per se stesso. L'uomo del fascismo è un individuo che pensa alla nazione e alla patria, che è una legge morale che unisce gli individui e le generazioni, in una tradizione, è una missione per sopprimere una vita di piaceri, per riscoprire attraverso gli doveri la vita fuori dai limiti di tempo e spazio. Hegel, ad esempio, contrasta ogni opposizione individualista, proclamando che lo Stato rappresenta la passione per la libertà dell'uomo, quando in realtà la libertà individuale non è consentita. E siccome lo Stato è il vero sé dell'individuo, quello che veramente un uomo vuole, anche se non lo sa consciamente, è quello che vuole lo Stato. La libertà, quindi, è obbedienza agli ordini dello Stato. Tale obbedienza garantisce vera libertà per il vero sé, anche se l'illusorio sé finisce in campo di concentramento. Questo trovate nelle pagine di Hegel. Io mi sento un bambino piccolo nei confronti di quest'autore. Io sento però che nei confronti di quest'autore, quel tipo di rapporto che ho sentito nei confronti degli autori che ho amato e che non è mai stato tra i miei maestri. Beh, adesso comincia a essere, per cui in quel momento è una giornata di festa. Io con questo vi saluto e arrivederci.